Allora, io oggi non voglio stare troppo a sindacare sul risultato, però devo ammettere che mi fa rabbia ragazzi, un amichevole, quello che volete voi, ma mi fa rabbia, mi fa rabbia prendere soprattutto quel 3-0 da un ass, ce l'ho qui, qui, veramente mi fa rabbia, perché, cioè ragazzi non capisco perché, ok, sono amichevoli, magari la squadra volutamente scende in campo con un atteggiamento un po' alla bene e meglio, no? Però quantomeno mettere in campo un modulo, giocare bene, non penso sia il modulo in realtà anche il problema o la tattica ragazzi, io penso che sia un problema di gambe, sinceramente, di metterci voglia, però quantomeno se tu non hai il problema del modulo, quantomeno gioca, non lo so, proponi, ma quelli ragazzi oggi che veramente si è fatto prendere a schiaffi, cioè non capisco il perché, ma veramente, è brutto, io volevo andarmelo a vedere oggi la partita perché i biglietti stavano ora a poco, poi per un amichevole figuriamoci, il problema è che, meno male che non sono andato, perché mi andavo a vedere una figuraccia, così, vabbè, ciò non toglie nulla, non toglie che siamo primi in Serie A, continuiamo in Champions, tutto quello che volete voi, abbiamo ancora dei grandi giocatori, oggi Raspadour ha fatto una bella partita, però mi permettere, mi sta un po' sul cazzo come risultato, soprattutto prenderlo così, con il Lille, che poi è una bella squadra il Lille, però dai, dai, impegnate, mi sono pure morso il labbro, mamma mia, bruttissimo, mi sono staccato il labbro praticamente oggi, mentre guardavo la partita della rabbia, e per un amichevole andando un po' fanno, se cazzo di Napoli, dai, dai, detto ciò, noi ci vediamo alla prossima, è un video proprio breve oggi, perché c'è poco da dire, abbiamo preso 4 pere, pure Meret, chiudile quelle gambe, difesa che per i grandi non tornava mai, sembrava alle partite che facevo io, quando ero piccolo e andavamo a giocare al campetto con gli amici miei, che si attaccava solo, non si tornava mai dietro, e oggi proprio zero voglia ragazzi, zero voglia, secondo me se il Napoli ci metteva un minimo di impegno, li asfaltava il Lille, peccato, peccato, anche perché questi test servono per tenere le gambe allenate in vista del campionato, se tu mi devi perdere così, non servirà un cazzo.